bella a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovissimo video del canale di Bromel5 io sono Tommy e oggi siamo qua tornati in questo nuovissimo video perchè ho 750 point, un regalo di Natale e vabbè 2284 reggi che non ce ne farò niente ma oggi siamo qua in un mini pack opening perchè ovviamente nel mio account apriremo questo pacchetto giocatori in prestito 83 più quindi c'è un solo giocatore che deve essere 83 in su o anche 83 e poi abbiamo 750 pifa points da spendere in un pacchetto da 15.000 un pacchetto da 7.500 e un pacchetto da 25.000 dove è quello da 25.000? ah questo qua un pacchetto da 25.000 quindi regà speriamo in bene intanto quindi tre pacchetti abbiamo il primo pacchetto che vabbè ce lo apriamo con tranquillità e sembra che tu abbia degli oggetti di cui comporti ah ok la divisione della Juve è incredibile quindi andiamo qui a quel pacchetto in prestito speriamo un giocatore molto buono vediamo attenzione oh c'è alle bandierine attenzione che dico il spagnolo es chi è? chi è? chi è? Vitolo Vitolo vabbè niente di che però poi sono tutti in prestito questi qui quindi vabbè Vitolo ce lo teniamo ovviamente passiamo ai pacchetti belli passiamo al pacchetto da 7.500 pacchetto oro premium con CR7 dai speriamo in bene speriamo in bene regà basta anche speriamo in bene 3 2 1 col naso regà col naso vai col naso speriamo in bene CR7 portaci sfortuna CR7 oh raro va bene raro va bene va bene portiere chi è? chi è? cune 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 vabbè 90 di rinvio non è assolutamente male poi abbiamo vabbè tutti questi giocatori che ce li teniamo ovviamente e poi abbiamo anche la diventa e quindi abbiamo poi anche 100 points in più che possiamo aprire un pacchetto da 5.000 vabbè adesso andiamo con il pacchetto da 25.000 speriamo regà speriamo in bene ho paura speriamo dai insieme 3 2 1 vai dai regà dai regà dai regà oh oh calmi chi è? cc 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 la lana la lana buono la lana la lana buono la lana buono regà vediamo quanto vale anche Bruna Wolcott non è male questo pacchetto metti sull'istotrasferimento vediamo eh mi sembra che è un po' sceso eh 4.600 3.500 sui 3.500 veramente molto buono la lana poi abbiamo vabbè Bruma molto baggato Wolcott anche lui molto molto baggato ok vediamo Wolcott quanto vale magari rienti con frontaprezzo non può vabbè comunque ci sta tutti giocatori baggati la lana non è male e vediamo il newcastle il marcatore noi ci teniamo tutto regà valgono tanto vediamo questi ok vediamo 500 vabbè comunque regà questo pacchetto è andato abbastanza bene per la lana che è stato tipo walkout comunque regà noi ci vediamo al prossimo video con il tutto da Bruna M5 20 like per un prossimo spacchettamento vedi 5 ah è vero è il pacchettolo da 5000 vediamo un po' cosa succede anzi vabbè dai fai te vediamo bella regà noi ci vediamo al prossimo video con la Bruna 5 bella bella regà bella regà e ci vediamo al prossimo video ok Grazie.